Ciao a tutti, perché ti innamori dell'uomo sbagliato e non riesci a conquistare quello giusto? Prima di affrontare questo tema iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco non chiede iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, perché ti capita questa maledizione di Tutankhamun di innamorarti dell'uomo sbagliato e non riuscire a sedurre quello giusto? Beh, per diversi motivi. Tra l'altro, vorrei ricordarti che analizzerò questi motivi in un seminario full immersion che farò a Genova sabato 14 dicembre 2019 dalle 9.30 alle 19 e il riferimento è il 333 15 11 703 per tutte le info. Quindi, Genova 14 dicembre 2019, seminario mio full immersion dove tratterò proprio questi temi sul perché capita che ci innamoriamo delle persone sbagliate. Intanto, chi sono le persone sbagliate? Sono quelle che non ti danno quello che tu vuoi. Ti danno le briciole, ma tu non sei una formica. Ti danno delle supposte scadute, ma le supposte scadute ti fanno male. Ti danno delle polpette avvelenate che ti fanno ancora stare male. E tutto capita proprio per questi motivi. Proprio perché sono sbagliate ti fanno innamorare. Pensa a te. Perché, essendo sbagliate, ti danno un forte quid emotivo. E invece quella giusta sarebbe la persona che, diciamo, tu desideri e che anche da un punto di vista logico e razionale andrebbe bene perché magari condividi i tuoi valori, condividi le tue credenze, ma tu non riesci a conquistarla perché hai una bassa autostima, perché hai paura di essere rifiutata, perché temi il giudizio negativo degli altri. E quindi non ci provi neanche perché hai delle credenze strutturate che non vanno bene. Quindi, per riuscire a, diciamo, ribaltare tutta questa clessidra, intanto devi partecipare al mio seminario che farò sabato 14 dicembre 2019, dalle 9.30 alle 19 a Genova, Genova, sabato 14 dicembre, e il riferimento è 333 15 11 703. Per ribaltare tutta questa clessidra devi fare semplicemente due cose. Acquisire autostima. Acquisire autostima se vai a sostituire i pensieri legati alla disistima con altri pensieri, come ti spiegò al seminario. Questi tre pensieri legati alla disistima sono il pensiero di incapacità, di essere incapace, di non meritarti l'amore, il pensiero di essere impedita nella conquista, e il pensiero di essere sfortunato, di essere sventurato. Ora, bisogna mettere l'antidoto a questi tre pensieri, che sono quelli nefasti, che ti impediscono di raggiungere il tuo obiettivo. E inoltre c'è un'altra cosa fondamentale da fare, che è quello di acquisire strategie di seduzione. Quindi capire, ad esempio, se questa persona è stimolata da un simbolismo materno, un simbolismo paterno, un simbolismo agrocentrico, acquisire i tre comportamenti da utilizzare. Capire quali sono i canali comunicativi che tu utilizza, se è visivo, o deduttivo, o cenestesico. Quali sono i metaprogrammi fondamentali. Se è una persona che ha bisogno sempre di nuove emozioni, o se è una persona che invece dobbiamo dargli delle negazioni per amplificare la situazione. Come devo generarli, amplificare il turbamento, per distrannire o per contraposizione? Insomma, devo fare tutto un sacco di cose. Per acquisire autostima è anche molto importante fare degli atti psicomagici. Cosa sono gli atti psicomagici? Sono degli atti di coraggio. Perché se io dimostro coraggio nel qui ed ora, vado a resettare automaticamente tutto il mio passato, che andrà a strutturarsi in modo tale che io oggi ho autostima. Perché ovviamente il presente è frutto del passato, no? E quindi se non vado, e non è così facile andare a ravanare nel passato per trasformarlo in modo tale che si trasformi il presente. Faccio prima fare un atto psicomagico, per dire la Iodoros, che è un atto di coraggio, che automaticamente mi va a resettare tutta la posizione del passato. E un atto di coraggio potrebbe essere, ad esempio, quello di andare a stendere la persona sbagliata, tanto per fare un esempio. Ma comunque, tutto questo in modo dettagliato lo spiegherò. sabato 14 dicembre 2019 a Genova, dalle 9.30 alle 19.00. Il riferimento è 333 15 11 703. Ti aspetta Genova sabato 14 dicembre. Per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram, Massimo Terramasco, iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!